Ok, tutti i bambini per avanti su! This is the live video! Shout out to Facebook, to somebody! Non so se sto pazzo, posso ruggendo, faccio i certi borsi, a loro è perché io non mi fumo, da niente sono il misterio, io non faccio nulla, ma non c'è ancora in tangenziale, andiamo a coandare, tutti i miei cani, andiamo a coandare, tutti i miei cani, andiamo a coandare, tutti i miei cani, andiamo a coandare, andiamo a coandare, andiamo a coandare,